Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Quindi... Ahahahahha Ehi! Lo so che c'è! Stai! Devo sfrugare in te? Sì Mi piace proprio ora Che? Che? Mi allò mi allò? Mi allò mi allò? Mi allò mi allò... 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 I'm just, I'm just standing I'm just the end of the game It's such a mess Would you like someone to click on me? Get there Nice 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 I'll be right back guys, two seconds And then we're beating this Party hips IRL Oh my god HOOOOOOOOO Time 但是 Tj 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 ... Acabo di dare a un Enemio 30v di vita Con un escopetazo al puto lago tío Eso acaba de pasarme tío Por diooos Por diooos bro Por diooos Che mierda! Tres to de vida! E noi ci sono CCE. E con questo, ci sono i nostri co-editori per voi. E una grande open ladder per tutti i nostri amici con un prezzo di $4,000. E anche, ci sono i nostri amici più in futuro, un giorno dopo giorno, con il vostro feedback. Quindi, se stai attuned per più informazioni. Se vuoi più informazioni, seguite la vostra Twitch e la CCE di Twitter. CCE, grazie a tutti per questa opportunità. Ci sono felice, e spero che tutti i nostri amici. E' stato un po' di più, ma che è stato un po' di più! Mods ban cyberpk per fare questo video. Mods? Blow up his... ...veri much doesn't get the chance of the way their play style is so strict. Oh, and prediction, sorry, prediction, yes. So many things happening. The omzone rise. ...and many more to be added up in the standings. 1 billion, bro. Oh my god, that's a lot of people. Thank you guys so much. There's only two more games left here on NA. All right, chat, time to add rise in chat. 360Hz monitor. Performance mode, everything low. Nothing special here. This one doesn't matter. Okay, settings. This is sensitivity. I used the G for a super light. Double movement. And then these are just my key points. All right, you should just pause the video whenever. Just look at them all. Oh, maybe I should keep it here. Okay, yeah. That's all you guys need. God, I don't want to show this. Yes, we can. Go, it's YouTube, baby. Bro. Oh my god. No, no, no. We got demonetized right now. Yeah, no, definitely. This is a app. Where is it open? The bottom. I would assume the bottom. I don't know. Teamwork, nice. Bro. Jesus Christ. Bro. Bro. We can't show this. There's no way. Guys, thank you for watching. I'm going to dispose. No, no, no. Syphon wrócił na FNCSy, duo cash capy i solo cash capa tego w tym tygodniu. Nie wiemy, czy na przyszłych solo cash capach też będzie. Prosiłbym o zrobienie klipa o nazwie Syphon, żebym mógł sobie... Tutaj działa zabawa. Jest zrobiona mapka. Macie wykrzynnik zabawa FNCS. Tam macie link do tweeta, gdzie jest kodzik. Przez miesiąc macie czas, żeby robić sobie najlepszy wynik w jak najkrótszym czasie. Top 1 dostaje ode mnie 2000 zł. Top 2 i top 3 to są jeszcze... No, niech to będzie... Powiedzmy, że jest to niespodzianka, bo jeszcze nie jest ogłoszone, co to sobie dostają. Ja już wiem, co te drugie, trzecie miejsce dostanie. Mapa składa się z 10... Jest to zrobione a la szkoła, tak? Nie pisze, że to wygląda jak ośrodek jakiś, czy więzienie. Jest to zrobione w klimacie szkoły. Masz 10 klas od najłatwiejszego do coraz to trudniejszych. Co ja jeszcze Ci mogę powiedzieć? No, wydaje mi się, że 90% z Was nie da rady ukończyć nawet... A, ułatw, 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 ułatw. Oh, brudder, gdzie sobie ten laserzy, żeby złaścimy. Oh, putz doły, putz doły. Oh my god, cooż pokolle się w domu. I chyba nawet przebiega by stali. Chyszę, co się zostają, że są to do i wierzą. Oh my god. Nie, nie. And nothing will ever compare, nawet 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 na szkołach, è stato nato in un'esistenza non è anche un marito di me marito, no questo è qualcosa che non puoi replicare e tu vuoi scrivere e prendere le foto e guardare le cose per sempre wow è incredibile tiktok ti piace la mia reazione? no, 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 no no, 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 no cranku się już dosta ecc gdzie ty chcesz się crankować? chodź a my tu Free high'a ja nie idź ki aż ja pierdole no idę teraz chcę się już głupotę robić idziesz pod moc i każdy się widzi chciałem na początku przejść po prostu ale zostaje dubla no pomocy no pomo... ja pierdole dobra nie gram tego graj se sam nie wiem nie gramы duo kurna Buongiorno, buongiorno, buongiorno. grazie Max? Ben? tu eravamo chad, tu eravamo un momento so you can claim your you were here badge 37, cuidado, he's there ok, segue, segue and you received the golden kappa share your golden kappas chad oh my god